Segui La Sette anche su Instagram, La Sette ovunque con te. La Sette è stata in una carica di alleggerimento che c'è stata dalla palizia nei confronti di alcuni manifestanti di collettivi antifascisti che protestavano contro questo evento che secondo loro era troppo estremo rispetto ai contenuti che un'università dovrebbe offrire. In realtà i ragazzi dicono che noi volevamo semplicemente mettere uno striscione, siamo stati trattati così. Il ministro dell'Interno, Piantedosi, ha detto che volevano impedire la libera espressione di chi dentro stava e volevano entrare nell'università e quindi hanno fatto bene le forze dell'ordine a tenerli fuori. E anche il ministro, il neoministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, che è di Fratelli d'Italia, ha commentato questa notizia più o meno sulla stessa linea del ministro dell'Interno, Piantedosi. Anche io ho fatto politica giovanile come Giorgia Meloni, ma noi rivendichiamo uno spazio di libertà. Un conto è rivendicare spazi di libertà e di dibattito anche all'opposizione del governo, è normale che sia così. Altro è tentare di impedire a una forza politica di parlare, non si possono mettere questi elementi sullo stesso piano, non esiste un diritto da parte della sinistra estrema di impedire a ragazzi universitari di destra di poter organizzare un convegno. La libertà di espressione deve essere garantita innanzitutto da chi organizza regolarmente un convegno e il diritto di poterlo svolgere. E questo è Luca Ciriani, ministro per i rapporti con il Parlamento, già capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato, molto vicino a Giorgia Meloni. Ora, ovviamente c'è una versione dei ragazzi che erano lì, c'è il punto di vista, o comunque ciò che ci hanno fatto sapere il ministro dell'Interno, il ministro Ciriani. Resta il fatto che queste immagini arrivano ieri e faceva un certo effetto vedere queste immagini e vedere nel frattempo tutta la solennità del rito che si consumava alla Camera, così come oggi al Senato. Tu quando hai visto queste immagini cosa hai pensato, Ezio Mauro? Ci sono due aspetti. Da un lato, in democrazia bisogna riconoscere che la vittoria della Meloni è legittima, una vittoria ottenuta con gli strumenti democratici e quindi la sua presa del potere è una presa del potere perfettamente legittima. Non c'è bisogno che lo dica io, naturalmente. La Meloni ha quasi evocato i movimenti degli studenti, perché ha detto io... Sinfatizzo, non posso non simpatizzare con chi va in piazza. Sì, l'ho fatto anch'io, l'ho fatto anch'io. Qui si vedrà alla prova anche l'uso delle polizie che il governo farà, che il governo di destra farà. Non vorremmo che si ripetessero episodi del passato e naturalmente avere rispetto per la voglia di organizzazione, anche di protesta dei giovani, nel momento in cui una destra estrema va al governo, significa anche avere un uso corretto delle forze di polizia e di controllo e di garanzia... E di garanzia della forza, anche. Di garanzia dell'agibilità dello spazio politico per tutti, naturalmente. Alessio, abbiamo qualcosa da aggiungere o facciamo così? Andiamo in pubblicità adesso. Chiedo a Ezzomaro di stare ancora qualche minuto con noi. Pubblicità, torniamo, riapriamo anche i collegamenti. Qualche minuto soltanto.